Lupa Roma Pad, conficcina del Pad, secondi classificati, Max Pace, Max Pace, maestria. Questo era per i primi, però la cediamo volentieri. La cediamo volentieri. La facciamo? Grazie. Grazie. La facciamo? Grazie. 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 Buona parte. Non ti preoccupare. Prima arriva a te, ma arriva a lui. Lo sai, no? I primi classificati, secondo torneo open. Vengo, salatino. Grande. Bravo. Buon appetito. Stato che vincereci. Grazie. 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 Salutesi. Dai. Salutei. Facciあるi. Scattato tutti insieme. Giudice? Dai. Ci pu invitiamo a fare il quarto dito. Patto. Se meureno. Edle non è a fare così. Grazie! Grazie ancora. Grazie. Buon appetito, tau. Grazie. Grazie.